Panificio di Francesco Russo, due punti vendita a tua disposizione, al Viale Cannatello 91 e al Villaggio Peruzzo, dove trovi il buon pane casereccio, cortesia e convenienza. Al Panificio Francesco Russo, non solo pane, ma anche gustosa tavola calda e pasticceria, torte con prezzi eccezionali per le tue feste e banchetti. Inoltre, forniture per grandi comunità e catering. Panificio di Francesco Russo, due punti vendita a tua disposizione. Ad Agrigento al Viale Cannatello 91, Villaggio Mosè e al Villaggio Peruzzo, San Leone. Info 389 34 91 073.